L'inizio del campionato di A1 di pallanuoto femminile si avvicina e le ragazze del città di Cosenza sono volate in Giappone per proseguire la preparazione. La squadra Abruzzia, agli ordini del coach Marco Capanna, riconfermato anche per questa stagione, proseguiranno la preparazione per più di una settimana in terra asiatica, dove avranno la possibilità di confrontarsi con squadre di grande livello. I nuovi acquisti e alcune riconferme danno al tecnico una buona squadra attraverso la quale provare a migliorare il settimo posto dello scorso anno. Un risultato apprezzabile ma non sufficiente per raggiungere le Final Six, dunque si proverà a far meglio in un campionato difficile che vede ai nastri di partenza squadre decisamente competitive. Quest'anno il Cosenza potrebbe fare molto bene perché si sono molto mischiate le carte all'interno del campionato, quindi noi daremo il massimo. Abbiamo già iniziato a lavorare e approfitteremo di tutte le occasioni come quella che sta arrivando di andare in Giappone. Stiamo aspettando il ritorno di Giussi e poi i nuovi arrivi di Luna, il portiere Leni e la Cinese, che sicuramente rinforzeranno le file dell'allenatore Marco Capanna.